Se partiamo dalla delusione già la terza giornata sarà dura durante l'anno. Sarebbe arrivato il momento in cui avremo pareggiato prima o poi. Non abbiamo fatto una buona partita. Io credo che onestamente non abbiamo fatto né più né meno di quello che abbiamo fatto in altre gare, solo che le altre gare le abbiamo vinte e oggi no. Dobbiamo lavorare, dobbiamo migliorare tanto. Oggi non abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, ma soprattutto dal punto di vista dei momenti e della gestione della partita, perché avremmo anche potuta perderla. Però è il normale percorso di questa squadra, di una squadra giovane, una squadra che deve crescere, che è stata finita di allestire una settimana fa. Ci sono giocatori nuovi, vanno integrati, vanno capiti, vanno aspettati e con calma si crescerà tutti insieme. E infatti c'è l'inserimento di due giocatori appena arrivati. Meglio con Balic in cabina di regia, senza chiaramente fare confronti. Probabilmente Carraro era un po' stanco anche per l'impegno nazionale. Ma sì, ma non dobbiamo, nessuno deve commettere l'errore, bisogna avere la lucidità di non sputare sentenze già la terza giornata e appena fai un pareggio. Le prime due partite Carraro ha fatto due gare strepitose e oggi un po' meno, ma sono ragazzi, possono sbagliare anche loro. Faccio fatica a trovare oggi un compagno che abbia fatto meglio di Carraro, quindi onestamente a partire dall'allenatore. Quindi è il normale percorso, non sono preoccupato perché è una squadra che ha voglia di crescere e questo lo puoi fare solo sul campo durante gli anni 20. No, no, ma loro hanno fatto una partita completamente di contenimento e ne vedremo altre di queste gare. Quindi, dato che sappiamo questa cosa, dobbiamo migliorare tanto sotto questo punto di vista. Noi l'avevamo preparata, questo tipo di gara, però l'abbiamo approcciata male. Nel senso che probabilmente ci hanno fatto male i primi 10-15 minuti in cui siamo partiti bene, abbiamo pensato di stravincere la gara e poi ci siamo rilassati, siamo andati al loro ritmo e per loro ritmo intendo muovere molto poco velocemente il pallone. Quando trovi questo tipo di squadra hai due soluzioni, o alzi la palla che non è nelle nostre corde o muovi velocemente il pallone facendo sì che da una parte all'altra prima o poi arrivano da una, da due, dalla terza parte e dalla terza volta non arrivano più perché la palla è più vicina dell'uomo. Solo che avevamo la foga di andare subito centralmente invece di trovare prima il Varco per andare centralmente. Sì, abbiamo fatto, a mio avviso, una grandissima prestazione lottando palla su palla. Quello che cercavo e chiedevo ai ragazzi in questa partita perché sapevamo la difficoltà da affrontare Perugia perché è una squadra forte costruita per fare un campionato di vertice ma sono molto, molto soddisfatto della prestazione della squadra perché non ha pensato solo a difendersi ma ha giocato quando c'era da giocare è ripartita. L'unica cosa, siamo stati un po' troppo frettolosi sotto porta non abbiamo sfruttato l'occasione grata però la strada è questa l'obiettivo nostro è la salvezza questo è l'atteggiamento che chiedo ai ragazzi e sono molto soddisfatto perché oggi ho visto una grande Juve Stabia. Quanto è stato importante che il movimento di Elia e di Canotto larghi sulle fasce Perugia ha cercato soltanto le vie centrali dall'inizio alla fine? Noi in fase di non possesso cercavamo di andare ad attaccarli sia con Elia e con Canotto nel giro palla della squadra del Perugia sapendo che per vie centrali ci poteva creare qualche pericolo infatti i primi 10 minuti abbiamo sofferto un pochino dopo non ricordo nessuna azione pericolosa da parte del Perugia ma noi abbiamo creato tantissimo non abbiamo sfruttato le occasioni grade però ripeto sono molto molto soddisfatto della prestazione sapendo che questa è la mentalità che ci serve fino alla fine.